Benvenuto a Expo Torre, la fiera delle opportunità dal 17 al 19 aprile a Torre San Giorgio. Un evento unico, completamente gratuito, dedicato al benessere della casa, che ospiterà le novità più esclusive per impianti sanitari, soluzioni edilizie e energie rinnovabili. Quest'anno un focus speciale sarà dedicato all'ambiente bagno e all'home wellness. Una tre giorni esclusiva di workshop tecnici, servizi di consulenza gratuiti con architetti sul posto e convegni con crediti formativi riconosciuti. Partecipa ad Expo Torre! Il tuo biglietto potrebbe farti vincere fino a 10.000 euro da spendere per rinnovare la tua casa. Expo Torre ti aspetta! Partecipare conviene!